hai visto Marina? ti sei ritrovato hai venuto a fattare tu anche te hai visto? guardami l'hai visto nella vita eh qua dove? che c'è? 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 bravo andiamo Dov'è? Fammi vedere, su. Dov'è? Dov'è? Eh? Dov'è? Andiamo, su, sciecca. Questo era un posto buono, una volta. Andiamo via, andiamo. Andiamo? Allora. Questo è più brutto. Vedi, è vecchio, perché ora è principale a essere tardi. Misha, was hältst du da in deiner Hand? Mushrooms. Was sind das für Mushrooms? Das sind Trüffel. Weiße Trüffel. And the dog will find them. Ja, der Hund hat die gefunden. Riechen die gut? Riech mal. Riecht der gut? Ja. Niko, zeig mal. Riecht der gut? Riecht der lecker? Willst du den essen? Nein? Want to eat them? Ja? Willst du den essen mit Nudeln? Ja. Wow. Wow. Bliven? No.